Con Emanuele Calvi del Movimento 5 Stelle di Treviglio, a quasi una settimana dal voto a Treviglio, commentiamo quali sono stati, come sono stati i risultati per voi? Noi riteniamo che i risultati sono stati molto soddisfacenti, quando siamo partiti a settembre calcovamo questo come risultato, è arrivato, siamo all'opposizione, nel gruppo consigliare, entreremo nell'amministrazione, diciamo che vedremo le cose da dentro il palazzo e per noi sostanzialmente è molto soddisfacente. E invece per quanto riguarda il ballottaggio si aspettava una cosa del genere o qualche numero diverso? Beh, diciamo che la scena politica trevigliese lasciava chiaramente intravedere questo tipo di ballottaggio. In campagna elettorale è chiaro che uno mira più in alto e anche noi, diciamo anche la nostra, anche da questo punto di vista, però le stime erano queste e naturalmente noi abbiamo una posizione molto precisa. Abbiamo, diciamo, detto agli elettori in ogni caso di andare a votare al primo turno, è chiaro che faremo la stessa cosa al secondo turno. Gli elettori, se troveranno aderenza ai nostri temi nei due candidati, ricordiamocelo che si tratta di elezioni locali, perciò le tematiche che riguardano il territorio e la comunità sono fondamentali. Se ci sono, diciamo, delle assonanze, noi li possiamo tranquillamente incontrare, non c'è nessun problema. Quindi gli apparentamenti di cui si parla a livello nazionale, nel caso di Treviglio, non esistono? Non esistono a nessun livello, anche perché si deve comprendere come funziona il Movimento 5 Stelle. Non è negli accordi programmatici lo scopo, diciamo, del Movimento 5 Stelle, non interessa entrare in amministrazione per, diciamo, collocarci in determinate poltrone. Il discorso nostro è molto diverso, vogliamo capire come funziona la macchina dall'interno. La questione degli apparentamenti non è assolutamente presa in considerazione, quello che ho detto vale in assoluto, cioè io lo ribadisco ancora, se vogliono incontrarci su temi e programmi, noi siamo a disposizione. Quindi libertà, diciamo, per tutti i vostri elettori? Sì, nel senso, i nostri elettori, come tutti gli elettori, non dobbiamo dimenticarcelo che non vanno a votare i partiti politici, come ho detto anche in campagna elettorale, vanno i cittadini, i cittadini si sentono tranquillamente liberi di fare le loro scelte.